L'orature è sparito! Legione rossa, non vi permetterò di dividerci e non mostrerò nessuna pietà! Zavala! Sono sicuro che troverà l'orature. Ora raggiungiamo la nave ammiraglia. Dirigiti alla torre nord. Invio Amanda Holliday a recuperarti. Grazie a tutti! Holliday in arrivo. Dobbiamo allontanare quella nave dal campo. Mi dicono che ti serve un passaggio. Zavala, ho qui con me la nostra fonte di salvezza. Raggiungiate la nave! Ora! Tieniti forte! Dai, ragazzone. Fa qualcosa. Ok, ci siamo. Adesso va a distruggere.